Inter 1-0 Juventus L'Inter passa alla finale di Coppa Italia Meritatamente una Juve Come sempre, come ogni singola partita Scandalosa Ne andremo a parlare in questo video Vedete tutto per un like, commento, istruzione, condivisione e campanellina Cosa importantissima che voi ci mettete poco per farlo Quindi fatele, vi costano poco E con i semplici clic e i semplici clic da fare E vedete il giro di sullo canale A 350 60, non 50, scusate A 360 gradi E se volete, se avete visto la partita Andate in me la vostra posta, se no scrivete tutto quello che volete Basta che commentate E venite i video Allora Inter 1-0 Juventus Un Inter che va in finale Meritatamente Stiamo seguendo gli ultimi due minuti più recupero Qui in live E' un Inter bella L'Inter è bella Cioè Allora la Juve non ha giocato bene La Juve ha giocato uno schifo come sempre Un vomito, una vergogna L'Inter non è che abbia giocato calcio champagne Occhio Questo lo mettiamo in carico Però l'Inter La Juve ha fatto sembrare che l'Inter Giocasse bene Giocasse molto bene di quello che stava giocando L'Inter ha fatto una bella partita Perché dai ma non una partita Enorme dal punto di vista della qualità Però comunque vanno in finale meritatamente Vanno in finale meritatamente perché stasera la Juve ha giocato con il solito gioco Di difendersi Per poi ripartire Questo gioco può andarti bene contro la Cremonese Contro il Verona Contro la Sampdoria Ma contro queste squadre grandi come l'Inter Non ti va bene questo gioco di ripartenza E quindi Allegri deve smuovere anche un po' la squadra E' solo che Allegri non la sa smuovere Ha sempre quell'idea di gioco lì Sempre la stessa Però comunque Non è che l'Inter abbia fatto una grandissima partita Ma la Juve ha fatto sembrare la partita dell'Inter grande L'Inter ha fatto una partita buona Una partita discreta Ma non una partita incredibile Infatti secondo me Se domani dovesse beccare la Fiorentina in finale In una partita sicca la Fiorentina non è facile da affrontare Quindi occhio Comunque primo tempo Inter Solo Inter Che la sblocca al quindicesimo Con una palla un pochino strana Sinceramente non l'ho capita con la palla Che doveva essere per gioco Però arriva a Di Marco Che la fa di esterno E mette fuori causa Per in E fa una zero E fa una zero Primo tempo così Però l'Inter non riesce L'unico handicap Se vogliamo dirla così Dell'Inter Di questa partita Sarebbe di non riuscire a chiuderla Infatti al 54esimo Mi ha annullato anche un gol a Geco Per fuori gioco Che già si era visto Beh l'Inter va in finale Ecco va in finale Veritatamente Perché comunque nel doppio confronto E' stata superiore Alla E' stata superiore Alla Juventus Però ripeto In una partita sicca Se non mai dovesse beccare La Fiorentina Secondo me Farebbe più difficoltà Secondo me Farebbe più difficoltà In una partita sicca Dove di giochi tutti E becchire Fiorentina in finale Secondo me Fai più difficoltà Quindi l'Inter Ha fatto una buona partita Ma si può migliorare E abbiamo visto Dall'altra parte La solita Juve di Ogni singola partita Aspettare dietro E ripartire Questo gioco ripeto Ti può andare bene Con le ultime classificate Ma con una squadra Così grande come l'Inter Non ti andrà bene Ed il problema è soprattutto L'allenatore Che non sa avere idee nuove Comunque l'Inter Va in finale Meritatamente Ma in finale Meritatamente Ma Si può migliorare il gioco Secondo me Ecco Noi ci becchiamo Alla prossima Bella voglia Ciao 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 Ciao